Aldil App è un'app che riguarda il settore dei cimiteri, diverse funzionalità, la possibilità di ricercare un loculo all'interno di un cimitero, la possibilità da parte dei familiari di riscattare il profilo digitale del proprio caro, di poterne caricare la foto, la biografia, i risultati della vita. In questo profilo digitale tutti possono lasciare un commento, un pensiero, una priera. Non da ultimo Aldil App permette di inviare un fiore a distanza, un biglietto commemorativo o addirittura poter scegliere un canone periodico di manutenzione che riguarda la pulizia e il decoro del proprio loculo. Da qualsiasi parte del mondo, che sono a New York, in Giappone o se sono un cittadino di Cambri che vivo a Cambri ma non ho tempo per curare i loculi dei familiari, ho la possibilità con poche decine di euro al mese avere in ordine la tomba del mio caro. Stiamo proseguendo la digitalizzazione di tutti i servizi comunali e ci sembrava opportuno cogliere al balzo questa opportunità che ci è stata segnalata e offerta per creare un'app che permetta al nostro comune di avere dei cimiteri sicuramente più all'avanguardia. Quindi non solo lavori da un punto di vista di ristrutturazione dei vari cimiteri ma un lavoro anche di digitalizzazione che sicuramente ci fa fare un salto in avanti per quello che riguarda il servizio che offriamo alla cittadinanza.